www.fema.it E' LIMA! Ho visto che ho una ping ponga! Perché devo rompere le... Salve, occhi dietro, occhi dietro! Chi è? Aiuto! Eh, l'ho detto che era lì, ma... Io l'ho detto! Ma mi ha salutato! Sembrava più carino quando mi ha salutato! E non era lì, ma... E non era lì, ma... Surprise! Surprise! Grazie, mio eroe! X-Ray, grazie! Surprise! No, dietro! Ma cosa dietro? Allora... Di qua! Indietro! No, aspetta! Qui, qui! Mi fido di te, comunque! Non me ne frega niente! Di qua! Sta lontano da lui! Perché? Hanno paura tutti di me! Vai via! Non ti vogliamo! Nessuno mi ama! Ok, adesso uso diversivo! Diversivo non funziona! Sì, funziona al cento per cento! Signor Charlie! Senta un po'... Buona musica! Musica perfetta! Vai! Vai! Ha funzionato! Isaac? Sì! Sì, ciù cosa! Ah, ciù! Ah! Guardalo, Christian! Cos'è che dica! Guardalo, Christian! Guarda lo gasco che mette nell'angolino la... Ah! Com'è che fai fare lo zoom? Eh, mi raccomando, la pistola si deve sedere! Molto comoda! L'avevo visto mentre metteva il coso! Oh! Sto sta dentro! Sto sta dentro! Sto sta dentro! Signori, benvenuti a... Stiamo giocando al serrande! La prova della Cina! Una nuova prova! Oggi cucineremo un po' di roba! Io invece lo stesso! Ok! Non ci posso che... Ah! Ok! Oh mio Dio, pesce! Oggi cuciniamo pesce! Pei! Pei! La prova delle prove! Però! Aspetta! No, no, no! Carne no! Carne! Pesce! Ho bisogno di carne! Se riusciamo a negoziare un po' di cose potrebbe anche venire fuori una cosa buona! Allora! 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 In cambio del pesce io ti do della carne! Aspetta! Allora! Fammi ragionare piano piano! In cambio del pesce... Quale carne? Prima di tutto! Ah! Ok! Aiuto! Mi fa questa! No! Failed! No! Sono invisibile, vero? Sono invisibile! Vero? Sì! Anche io sono invisibile! Sì! Anche io sono invisibile! Sì! 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 E lo liscia! Uccedilo! C'ho fatto! Prima di uccidere uno! Uccedilo! Uccedilo! Uccedi i whisky guarda! Ah ma aspetta! Va bene! Lascia! Va bene! Lascia! Mi sono presi conto di una cosa! Luno! Aiuto! Sono nelle bondizze con un nini! I whisky! Dammi un abbraccio! Cuciniamo me sopra! Addio nabbi! Mamma mamma! Ma chi no! Chi no no! Chi no no! Mee! Mee! Oh cazzo! È colpo! L'ho detto che è una cosa! Mee! 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 Oh cazzo è colpo! Mee! 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 No aspetta! È colpo! È colpo! Mee! Black dietro! No ma va! Non è dietro no! Mee! Ma mica è dietro! Ma va! Porca puttana! Black! Hai la mira di una balena morta! Mee! Che cazzo! Ma che cazzo! Ma che cazzo! RIP! E da mezz'ora finisci! Ma! Oh cazzo! Mee! Viva! 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 Black! Hai l'abilità! Di un bradito! Hai l'abilità di sparare di un astrologo! Senza mani! Qui succede una strage no? Cazzo è Romeo! Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant. Salve. AAAAAH Te sto ancora dentro. Nooo Non posso dirmi prima che mi ha ammazzato. Avremmo visto una mano con un coltello ma non so che colore era. Vai via Non volevo dirtelo. no a mio azzurre blocca blocca sta vogna invece si cazzo entra entra senti chris che non te la suoni cazzo via via ciao ciao è stato un piacere io me ne vado a nanna a narnia a nanna a narnia no ero sul posto bellissimo isaac dove cazzo sei? sto meditando tranquillo qualcosa di impossibile meditare fa bene dicevano ci sono due tizi rossi guarda il tizio giallo che è asciuto dalla finestra non provare a saltare non provare a saltare dov'è la pistola dove è finita la pistola? era qui un attimo fa pistole pistole no via il verde è giallo è giallo fuori dalla eccolo è lì si gioco di squadra lo chiamavano il cecchino guarda lo era indie mal di testa è questioni di moment india ciao amico come si chiama poi? ok ciao chi è india? no 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 vuole uccidermi vuole uccidermi a quanto pare hanno dato l'arma alla persona sbagliata amico rosa te lo dico io non sono io tu si è il christian sono qui sei finito te in mezzo al proiettino non è colpa mia dove è la pistola? no oh il mio èsto non ci credo dove mi c Zoom è la pistola? oh mioлер ti ho detto che ero mica non trovo la pistola puta se niente si ti risworti giochi si Sì! Dori altro!